Okinawa a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di Squad Buster signori E quest'oggi siamo qui con un video un po' particolare Ovviamente signori siamo saliti di arena Siamo livello 39 E andiamo a vedere un pochettino le cose nuove che ci sono all'interno del nostro account Ovviamente abbiamo sbloccato anche Dynamite che l'abbiamo portato già al livello 2 Quindi direi molto molto onesto Ma oltre quello abbiamo sbloccato il mercante classico in base ai livelli Abbiamo sbloccato la guerriera guaritrice La guaritrice guerriera Che l'abbiamo portata già al livello 2 E soprattutto il baby stregone Che io non vedo l'ora di portarlo al livello 2 E poi al livello 3 Fighissimo Il livello 4 è un po' particolare Però va bene lo vedremo magari quando usciranno ufficialmente tutti quanti i personaggi al livello 4 Ci sono altre carte da trovare Tra cui Mortis eccetera Vedete raga ce ne sono tanti Tra l'altro anche questa qua Mavis che ci raccoglie le carote Raga è veramente molto molto utile Magari in combinazione con Greg Per fare un mega farm build della squadra Ci sta Però in questo video Quest'oggi signori Oltre alla streak di 15 vittorie Voglio andare a provare insieme a voi Il super mega mago Per vedere come funziona E se soprattutto avremo innanzitutto fortuna nel trovarlo E se soprattutto riusciremo a utilizzarlo Magari anche voluto Sarebbe proprio Arbacio Arbacio Andiamo a controllare al volo le missioni A niente a 3 squadre nemiche Ok Scegli 5 personaggi epici Dai bauli Va bene Ci sta Ci manca pochissimo per completarle Quindi ci possiamo prendere anche Il prossimo bauletto Direi che possiamo iniziare A cercare la nostra prima partita Bottino a palate E nella nuova arena ovviamente Quindi vediamo insieme anche la nuova arena Io ci ho fatto qualche partita Giocando off camera Insieme a Lellino Quindi ogni tanto passate anche dal suo canale Raga perché Fate video su squad buzzer Anche lui E lo sto portando anche a farli su clash of clans Quindi dateci un'occhiata Raga perché Sono sempre belli E direi che possiamo iniziare Guardate Cioè ce l'abbiamo dritto Qua davanti Subito Lo dobbiamo prendere Tra l'altro ci lascia anche un incantesimo a terra Il che signori Vi devo dire Che non è per niente male Non è per niente male Guardate lo start di Greg Raga Quanto è fondamentale Madonna qua dobbiamo correre Prendere tutte le scarpette possibili Perché più ne prendiamo E meglio è Raga Io direi Ci prendiamo un altro personaggio Andiamo con la guaritrice E così vai Li proviamo tutti quanti insieme Quelli nuovi Raga Top Bello Prendiamoci un altro po' De scarpettine Ok ci siamo Ci siamo Andiamo di barbaro Così abbiamo già Una bella base di attacco Possiamo stare quasi tranquilli Io qua ci piazzerei un bel cannone Peccato che me l'ha piazzato dritto Sopra l'albero Però va bene Guardate quante monete Ci abbiamo Già possiamo andare a prendere Il secondo barbaro Interessante Io qua mi faccio Tutta sta striscia A salire su così Perché raccogliamo Uno scarafascio Di monetine E ci andiamo a prendere Il secondo machetto Che ci ha dato la Cura Bello Raga Ci ha dato la Pozione Della guarigione Ci risse un po' Dislessico stamattina Ma avete capito Quello che intendevo Quindi ci sta Ci sta tranquillamente Tutto Allora Questo signore qui Mi attacca Ma io direi Che è meglio Che te fai cavoli tuoi Perché te spacco Te faccio veramente male Quindi raga Vai Eccolo Baule No Peccato Non abbiamo trovato Madonna iniziano a costarci Troppo i baule adesso Iniziamo a attaccare qualcuno Raga Iniziamo a attaccare qualcuno Questo Questo ce lo portiamo a casa No Troppi Che cosa sta succedendo Vabbè ci portiamo a casa questo Raga Che tra l'altro c'ha un Greg Livello 3 Credo che era un Greg Quello Bello Ma perché abbiamo Un cerchio Raga Sopra la nostra testa Io non so Cosa significa questa cosa Abbiamo Un cerchio bellissimo Ok Comunque L'abbiamo annientato Raga Direi Veramente top E possiamo magari procedere Ad annientarne anche un altro Perché io mi sento abbastanza Safe in questa partita Raga Non so per quale motivo Ma mi sento molto 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 cattivo E ce lo siamo annientato Anche lui Bello Così Ci abbiamo In realtà Raga Se non sbaglio Ben Due bauletti Gratis Da poterci aprire Visto che abbiamo Battuto Due 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 Madonna quante gemme Due nemici Quindi Bello Maghetto super potente Che a livello successivo Cioè almeno a me piace Cioè almeno a me piace tantissimo Perché Greg ci aiuta Un botto Nel farming Delle gemme Raga Specialmente In case estremi Dove magari Siamo un po' Dietro con le gemme Il mitico Greg Fa il suo dovere Fa il suo dovere Abbiamo tutti i bauli Abbiamo tutti i bauli che ci abbiamo Bella Anche la curatrice Finalmente Evoluta Ragazzi Abbiamo tutti i personaggi Quasi tutti evoluti In realtà Ci manca soltanto Magari Il Il domatrote Il domatrote Per non dire Qualcos'altro E la bellissima strega Che intanto iniziamo A piacere Anche a seconda Raga Iniziamo anche a Piacere a seconda Io qua questo Gli voglio da un po' De fastidio Madonna Qua attivamo Tutti i poteri Della vita Come se non ci fosse Un domani Perché regà Stiamo facendo anche La missione Per sbloccare L'incantesimo Del fulmine L'incantesimo Del fulmine Ok Lasciamo una bomba Così a Muzzo Mezzo a tutti Raga Vai diretti Ok Siamo arrivati Terzi Io me l'accollo Come prima prova Del Maghettino Direi che è molto interessante Signori direi Che è veramente interessante Come truppa L'abbiamo vista poco Però comunque Il suo danno Lo fa Ne abbiamo perso Dei personaggi Non ho capito come E ok Apriamo questo Bauletto Comune 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 Dai aumenta un pochino Comune grande Ce l'accolliamo Raga Ce l'accolliamo Vediamo un po' Belli 5 colt Sono interessanti Lo possiamo anche far salire Di nuovo Di livello Quindi andiamo al 6 Su 10 Ci sta Libricino Completiamo le varie missioncine Queste le abbiamo fatte tutte e due Vai Raro Raga Questo potrebbe diventare Un bel epico Vediamo Raro Più uno Dai Più uno Ancora Più uno Ancora Più uno Grande Ok Un bel raro Grande Raga Questo si è il mago Top direi Raga Top direi Vediamo 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 Ok vabbè Dynamike Che comunque Signori Che comunque Il nostro piccolo Dynamike Ce l'accolliamo Raga è forte Non è male Non è male Vediamo un attimo Al volo le emissioni Niente a 90 mostri Trova 10 bottini nascosti Dell'erba Easy Fa in modo che ci siano 3 Persoaggi diversi In squadra Contemporaneamente Molto 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 Easy Continuiamo con la streak Di 16 vittorie Tanto Ormai Sapete Raga la maledizione Decidi se è quella Di non riuscire a fare Più di 20 vittorie Ogni volta arrivo a 20 Devo registrare Inizio a registrare E perdo Subito Island Quindi Stavolta siamo partiti Un po' anticipati Siamo partiti a 15 vittorie Magari ci dice bene E ci avviciniamo Verso le 20 Vediamo un pochettino Mettiamoci a fare le monetine Raga io Shelly La adoro Veramente Non so a voi Se vi piace Come squatters Come busters Anzi Che più bello Busters Come nome Non so se a voi Piace A me Fa impazzire Raga Perché soprattutto Evoluta Ha la sua abilità Che spara Così a raggio Cioè così a ventaglio No a raggio I proiettili Raga E fa veramente Molto molto male Quindi è molto interessante Procederei Con un bel goblin Perché a noi Ci servono le monete Iniziali Raga Perché non ci abbiamo Nulla per far male Non ci abbiamo Ne Greg Non ci abbiamo Quella delle carote Che vabbè Mavis Se non sbaglio Si chiama Non l'abbiamo proprio trovata Quindi Ci sta Prima o poi Magari la troveremo Se ci dice bene E andiamo con La prima Evolution Di Shelly Che direi È interessante Ci prendiamo Anche un bel Cannoncino Bello Bello Questo start Della partita Raga È un pochettino Più lento Rispetto agli altri Infatti siamo ancora Decimi Siamo ancora decimi E questa cosa Non va bene Non va bene Andiamo di Dynamike Andiamo di Dynamike Ok Abbiamo fatto La missioncina Intanto di avere Tre truppe differenti All'interno Dello stesso team Quindi direi Ottimo Very very good E ci prendiamo Tutto ciò Che ci arriva No Perché ho spiegato La bomba qui In realtà Se l'avessi piazzata Magari Vicino Vicino Agli alberelli Avrei buttati giù E magari Ci facciamo Anche l'alberello Comunque Va bene Non è un problema Perché tanto Ce l'abbiamo Di nuovo Qui E Dynamike Sì Sì Andiamo di secondo Dynamike Così magari Ce lo facciamo Ovviamente E poi Evoluto Che potrebbe essere Molto Molto più interessante Magari se ci capita Subbero sarebbe top No Però andiamo di Goblin Ci sta Oddio Abbiamo una squadra In realtà Fa cagare Al caso Fa veramente Cagare Questa squadra Però Vabbè Noi Noi ci proviamo Lo stesso Che ci frega Intanto mi vorrei Prendere la vita Qua in mezzo Perché Questi sono Pericolosi Sono molto Molto pericolosi Se riusciamo A buttare giù Anche questo Bossettino Magari farci Una bella quantità Di gemmine E Di Monetine Che soprattutto Sono più interessanti Di tutto Direi ottimo Madonna Ragazzi Stanno capitando Tutte truppe differenti Questa partita È una partita Molto molto difficile Io direi Voglio provare Attacca a questo Questo secondo me È qualcosa Che io facciamo Intanto Attiviamo anche La cura Perché se no Regà Qua in mezzo Ci fanno Veramente male Ci fanno Veramente male Tra tutti i mob Che ci stanno Questo cannone Che rompe le scatole Direi che non è Il massimo Io il Kaijin Me lo vorrei fa Kaiju Perché lo chiamo Kaijin Non lo so È più figo Regà Kaijin Scrivetemi nei commenti Se vi piace Più Kaijin O Kaiju Secondo me È più figo Kaijin Però va bene Va bene I dynamite Che stanno morendo Male Quindi se no Stiamo attenti Li perderemo A breve Se magari io trovassi Anche una Pozioncina Non vorrei dire Di cura Sarebbe A quanto top Sarebbe a quanto top Ma A quanto pare Non è così Magari troviamo un medico Uh strega Strega Lanciamo la bomba Ok Siamo lanciati la bomba Lanciamo anche scheletrini Ce ne prendiamo un'altra Così di bomba Questo continua A romperci le scatole E direi che tu Devi morire Probabilmente ci ucciderà Probabilmente Lo uccideremo noi Perché lui sta scappando Stai scappando Amico Sappiamo che ti abbiamo fatto Un po' Di male Fisico Guarda come si sta ancora quello Madonna Regà Cioè io sta partita Non ce sto a capire niente Perché non trovo Le truppe che mi interessano Madonna Qua stiamo per morire male Stiamo per morire male Stiamo attenti Regà Questi ci stanno 78 cannoni Che hanno rotto un po' Le scatole Vi prego Datemi delle gemme Non posso arrivare Sesto Per favore No Siamo arrivati sesti Ok Va bene Abbiamo perso la streak Easy Perché ogni volta Che Ciris Deve registrare Regà Noi perdiamo la streak Se sa È così Purtroppo Non ci possiamo fare nulla Vediamo quanti soldi Ci costa Forse Forse La manteniamo Forse no 4.000 4.000 Sono un botto Sono un botto Però a noi che c'è frega Cioè Stiamo qua per spendere i soldi Stiamo qua per spendere i soldi Come negli episodi Di Clash of Clans Anzi se avete visto Lo scorso video Di Clash of Clans Che abbiamo fatto La spesa più grande In assoluto Se non l'avete vista Andate sul canale E recuperatela Il video è un pochettino Lunghettino Rispetto agli altri Ma regà Merita Davvero Davvero tanto Perché abbiamo fatto una spesa Esagerata Comune grande Vediamo Vediamo Rimane comune grande Ok Ce lo accogliamo Comune grande Rimane comune grande Ci prendiamo 7 Barbarelli Piccola interruzione Signori Purtroppo Mi hanno chiamato Al telefono Quando che Non dovevano Perché io avevo messo Tutto quanto bloccato Però va bene Va bene Perché l'iPad è collegato Quindi se mi chiamano Con Festime Ci chiamano anche là Abbiamo trovato i Barbarelli Molto interessanti Che li possiamo far salire Di livello 7 su 10 Abbiamo sbloccato Anche Il premio Dei pacchetto Reazioni Che ce lo andiamo ad aprire Bello Ok Una strega Bella Un Greg Bello Vabbè Ce sta In realtà Sono tutte comuni Però Ce la collamo Tranquillamente Ce la andiamo a vedere Al volo Qui Così Le andiamo A rimuovere Dal badge piccolino Che mi da veramente Pastiglio Pass delle gemme Doppia gallina Drago Mega 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 Gallina Drago Questa Ce la possiamo Andare A utilizzare Tra pochissimo Per fare Un pochettino Il tutto Ci vediamo Tra due secondi Che sistemo La registrazione Perché vedo Che non va bene Eccoci tornati Signori A parte qualche piccolo Inconveniente Tecnico Perché mi chiamano Mentre sto registrando Ma va bene Non è un problema Possiamo procedere Con la prossima Partitella Perché abbiamo Anche la gallina Drago E magari ci può Capitare Ovviamente Arena nuova Mini era straordinaria Ci sta Andiamo subissimo A vedere Anzi Vorrei chiedervi Anche un consiglio Se conoscete Se conoscete Un modo Perché sicuramente Ci sarà Anche penso Su iPad Un modo Per non Ricevere Chiamate Messaggi Notifiche Mentre state Giocando Scrivetelo Qua sotto Nei commenti Perché io Non lo conosco E potrebbe essere Interessante Potrebbe essere Interessante Attivarlo Soprattutto perché Così almeno La registrazione Non la buttiamo Però va bene Vai Diretti Carichi questa partita Dobbiamo vincela Che già abbiamo speso Delle monetine Per mantenere la stric Non possiamo perderle Non possiamo perdere Questa sfida Quindi io direi Di Gregone Bello Gregone Questa che avevo Proprio a pennello Raga Vai dei gemmi Se incomincia A fa Un po' De farming Gemme E soldoni Interessanti Così intanto Ci portiamo su Anche la squadra Vai Regà Io devo prendere Per forza Il maghetto Devo prendere Per forza Il maghetto Perché è veramente Forte E Sti cavoli Ci costeranno Molto di più Le casse Però Regà Il maghetto Andava preso Non potevamo Non pialo Cioè È impossibile Doppio Greg Buono Magari se troviamo Anche il triplo Ci iniziano a costare Un pochettino De meno Anche le truppe Non sarebbe Per niente male Soprattutto perché Poi facciamo One shot One kill Sui alberi Che sono molto Interessanti Soprattutto A inizio partita Nel farming In modo Che vi riusciate A preparare Il prima possibile Una squadra Abbastanza decente Da poter affrontare Magari poi Qualche avversario Colt Ok regà Stiamo prendendo Veramente truppe Molto molto male Purtroppo perché Ci costano un bordello Le casse adesso Però abbiamo Già una bella squadra Composta da Molti 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 Squaters Busters Che mi viene da dire Sempre squaters Regà Perché Squad Busters In realtà Quindi squaters O Busters Più o meno Stiamo là Più o meno Stiamo là Io direi che Ho buttato giù le carote Se le avessi buttate meglio Magari ci saremmo fatti Molte più monete Però ce ne mancavano Soltanto due Regà Non spreco un'altra bomba Per quelle lì Andiamo prima Iniziamo con le fusion Regà Iniziamo con le fusion Perché se no Davvero 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 Ci costa troppo Prendere Ogni Cassa E non possiamo Sprecare Così tanto tempo Regà Per prendere tutte le cassette Perché se no poi È tragica la situation Quindi dobbiamo andare Io qua ci vorrei Buttare una bella bomba Dritta per dritta Regà Guardate che tattica segreta Che deve insegnarci Rissone Se la usate sulle carote O sugli alberi Funziona allo stesso modo Regà Ovviamente Ve butta giù le cose Anche se non avete Magari Lo squatters Il busters Adatto Per quella mansione Comunque Voi potete Piave Monetine Piave Gemmette Che ve potrebbero Essere utili Ok E ci sta Direi che io vorrei Entrare un pochettino Verso il centro Della mappa Attualmente Perché Regà Siamo arrivati a un punto Che ci dobbiamo addentrare All'interno No Perché non ho preso il mago Il mago in realtà Sarebbe stato molto interessante Io ho qui Madonna Madonna signori Siamo arrivati al momento giusto Siamo arrivati Esattamente al momento giusto Per prenderci Tutte le nostre monetine Io vorrei buttare giù Questo Scheletrone gigantone Perché ci da un fracco Di cosettine E poi mi metto a fare Anche questi alberelli Regà Tra l'altro Madonna ci hanno schiattato Anche uno squatters Mmm Quel canone di merda By the Greg Oh Basta Ci stai distruggendo Tutta la squadra Oh Che cavolo Regà Ma Anche con meno cattiveria Cioè Abbiamo perso Il nostro Gregone Abbiamo perso un sacco di roba Vai di Nita Nita ci sta Buono Ci facciamo anche il Golem di Elisir Bello Cisciottoso questo Regà Ci da un sacco Dei sordoni E un sacco Guardate quanti Guardate quanti Madonna Madonna Regà ci manca una moneta Eccola qua Ci mancava una monetina Ci prendiamo Gregone Perché ci ho preso Gregone Full Non lo so Scappiamo che questo ci devasta Ci devasta male Ci devasta male Siamo quarti E ce la collamo Pulita pulita Così questa partita Regà Manteniamo la streak Siamo a 17 Vittorie di fila Ci andiamo ad aprire Questo bauletto Insieme Vediamo Cosa Troviamo Magari ci dice bene Troviamo qualcosa di buono Comune 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 Raro Rimane raro Rimane raro Se era raro o grandissimo Era meglio Però bello Abbiamo sbloccato Anche Pam Signori Abbiamo sbloccato Un nuovo Squatters Top così Top così Costruisce una torretta guaritrice Dopo aver aperto un baule Bello Bello Missioncina Fatta Top Regà Andiamo a controllarla Un secondino Insieme Ciris sta morendo Ok A livello 2 La torretta guarisce Mette un'onda curativa Dopo essere stata distrutta A livello 3 Mette a disposizione Un'incantesimo torretta guaritrice O era al contrario Però va bene Il senso è quello Regà Comunque Evoluta Diventa interessante Costruisce una torretta guaritrice Dopo aver aperto un baule Quindi ok Abbiamo un ulteriore Healer Regà Prima o poi Riuscirò a fare Un video Con una squadra Full Healer Quindi Pam Guarditrice Guerriera Mercante Che ci cura Leggermente Non tantissimo E il dottore Che è l'Healer POP Almeno Attualmente Attualmente Di quelli Che potrei sbloccare Mi direi Molto molto onesto Anche questo sbloccaggio Finale Della truppa Rara Comunque rara Ma si Pam Direi Direi Veramente Top Regà Contentissimo Questo è il video Bello Però Ovviamente L'andremo a provare In un prossimo video Regà Quindi Vi invito A lasciare un bel like Di supporto Se vi sta piacendo Squad Buster A me tantissimo Ci sto giocando Veramente molto Mi sto divertendo Veramente tanto E soprattutto Avete visto Che Ciris Ha anche Un po' De culo Quindi Hashtag Sculo Ciris Scrivetelo Qua sotto nei commenti Se vi fa A me Vi fa piacere Perché significa Che siete arrivati Fino alla fine del video Ovviamente Commentate con scritto Cosa ne pensate Di questo gioco E l'hashtag Che vi ho appena detto E soprattutto Condividete Il video Con i vostri amici Ricà Importantissimo Perché più siamo Meglio E abbiamo superato Anche 2.600 iscritti Dagli che puntiamo Verso i 3.000 Quindi iscrivetevi Attivate la campanina Per rimanere Sempre aggiornati Su ogni video Che andrò a pubblicare Martedì Giovedì E sabato Regolari Alle 14.30 Puntuali Sul canale Magari Con l'aggiunta Di possibilità Di metterne anche Uno al giorno Regà Me lo dovete scrivere voi Perché io Sarò felicissimo Di portarvelo E niente Qui da Ciris È tutto Un salutone Bella regà Ciao 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 Grazie.